Ciao ragazzi, oggi iniziamo il 1700 vedendo due argomenti differenti, per quello vi ho messo un titolo più generale, che sono da una parte il rococò e dall'altra il vedutismo veneziano con canaletto, per poi approdare al neoclassicismo che sarà uno degli ultimi argomenti che affronteremo quest'anno. Partiamo dal rococò, del rococò avevamo accennato qualcosa quando abbiamo parlato in letteratura dell'arcadia, perché? Perché è il gusto che si sviluppa nel 1700 soprattutto nelle corti nobiliari, nel 1700 vediamo che comincia ad essere sempre più evidente il distaccamento che c'è tra le corti, cioè tra i nobili e il resto della società. Con l'avvento della borghesia e con i nuovi ideali illuministi infatti, la nobiltà ha mostrato ormai i propri limiti, il fatto di non poter più essere in qualche modo la classe dominante e questo porta molto spesso la stessa nobiltà a estragnarsi dal resto della società. L'esempio più lampante ce l'abbiamo con la costruzione di Versailles che diventa un po' il regno fatato in cui la nobiltà francese si nasconde da tutti i problemi che in realtà aveva la società francese, soprattutto i più poveri. Qui è un esempio di una delle sale di Versailles, vedete che il gusto del rococò ne è un chiaro riferimento, nel senso che il rococò è l'esagerazione di quello che era stato il barocco, quindi un utilizzo spasmodico degli ori e degli elementi anche vegetali che vengono però impreziositi da pietre e da questo gusto un po' anche esagerato, del decorativismo che ritroviamo sulle pareti, ritroviamo sulle finestre, l'utilizzo degli specchi con questo effetto di ripetizione anche degli ambienti e l'utilizzo come vi dicevo del d'oro molto spesso con lo sfondo del bianco, l'interesse anche per l'elemento orientale, va molto di moda utilizzare anche ad esempio il vasellame pregiato cinese per sottolineare la differenza che c'era tra la nobiltà e il resto della popolazione ed è in questo periodo che si sviluppano ad esempio anche il grande amore per i giardini in numerose regge, non solo la regia di Versailles, anche ad esempio quella di Caserta che viene commissionata dal Van Vitelli, ha un gusto più classico diciamo, però l'idea è proprio quella di creare questi giochi d'acqua che richiamano un po' Versailles che diventa l'esempio per tutti. Il rococò potremmo dire che è lo stile dell'esagerazione quindi, di questa società nobiliare che si allontana definitivamente dal resto del mondo e quindi vive in questo mondo dorato, impreziosito eccessivamente per allontanarsi dai problemi di tutti i giorni. Adesso questo appunto è un esempio, però dovete immaginare che il gusto era proprio questo, il voler decorare tutto, il temore dell'oror vacui, quindi che ci fosse un piccolo spazio lasciato libero, bisognava nascondere la monocromia che rappresentava un po' la monotonia e bisognava invece arricchire il tutto con in qualche modo l'oro e le gemme per dimostrare, ovviamente utilizzare lo succo dorato serviva per dimostrare la propria ricchezza, non a caso. Di contrapposizione a quest'arte si svilupperà poi il neoclassicismo che vedremo dalla prossima volta. A Venezia si sviluppa il cosiddetto invece vedutismo che si caratterizzava dall'utilizzo di un apparecchio ottico, una camera ottica che permetteva di vedere in maniera più ravvicinata anche degli aspetti al pittore in una camera oscura, di poter vedere anche degli elementi che magari non balzavano subito all'occhio e per dare una maggiore concretezza anche ai particolari più distanti. Il più grande rappresentante di questo vedutismo è sicuramente il canaletto che nasce a Venezia nel 1697, vivrà gran parte della sua vita lì da una famiglia di scenografi, infatti lui l'utilizzo della camera ottica lo conoscerà benissimo proprio per il tipo di lavoro che fa inizialmente con i genitori. Poi si allontana da questa tipologia di lavoro familiare per interessarsi solo alla pittura. Nel 1746 si trasferisce a Londra dove starà per circa 10 anni, tornerà nel 1756 e rimarrà a Venezia fino alla morte avvenuta nel 1768. Canaletto amerà molto la raffigurazione della sua città di Venezia, anche nella sua esperienza comunque inglese, l'esperienza inglese gli servirà per imparare delle nuove tecniche, però principalmente il suo soggetto principe è Venezia. Vi ho messo qui due quadri esemplificativi, il primo è il ritorno del bugintoro al mollo nel giorno dell'ascensione. Durante il giorno dell'ascensione della Madonna in cielo si faceva questa famosa festa sostanzialmente, era il matrimonio tra le acque e Venezia e avveniva in questo modo, il doge insieme agli altri dignitari delle famiglie veneziane più importanti andavano nel bugintoro, che è la nave che vedete sullo sfondo dorata con la bandiera rossa e in mezzo alla laguna buttava un anello, una fede nuziale, simbolo di questo matrimonio tra il mare e Venezia e poi ritornava e tutte le navi seguivano questa scena. Qui vedete delle gondole e delle barche anche più misere. Il bugintoro è sullo sfondo perché lui dà come primo piano a grande importanza al popolo che sta lì a guardare e sono tutti interessati al ritorno del bugintoro. Sullo sfondo vediamo piazza San Marco, vedete il campanile di San Marco, vedete il palazzo del doge e vedete anche la colonna sullo sfondo della colonna di San Marco. La cosa molto interessante è che lui utilizza colori molto nitidi che permettono perfettamente di riconoscere i vari particolari, questo è reso grazie soprattutto all'utilizzo della camera ottica che permette di rendere con maggiore nitidezza tutti i singoli particolari, cosa che noi ritroviamo anche in quest'altro quadro sempre raffigurante il canale grande, la piazza del duomo, lo vedete da un'altra prospettiva, è il mono con la libreria che è sostanzialmente il piccolo baracchino sulla destra davanti al palazzo del comune e la chiesa della salute sullo sfondo, che è la chiesa che vedete con la cupola sullo sfondo. La caratteristica sua è quella che lui cerca di rendere con la stessa prospettiva tutti i particolari, facendo in modo che gli elementi lontani che quelli vicini sono resi con una grande particolarità di insieme e questo permette di far sì che questi quadri risultino quasi fotografici, perché tutti i particolari sono resi come se noi potessimo vedere nitidamente sia gli aspetti lontani che quelli vicini e questo come vi dicevo è reso grazie all'utilizzo di questo macchinario che permette di dare anche una maggiore vivacità ai colori.